Aspetto solamente di aver imparato tutto per benino e poi, l'ultimo giorno di lavoro, prendo quella sua cassetta degli attrezzi, così porta sempre dietro e gliela rovescio sulla testa. A chi? Come ti permetti tu di dire questa cosa? È stato lui! L'azzarone! Non mi ha chiesto, mi ha fatto un attrezzo. Cosa c'è tra lui? Eh, ma non ti devo mica lo rispondere. Tu non devi rispondere a nessuno, noi qui stiamo lavorando. Muoviti, schizzo, prendi la scala. Avanti! Oh, che roba da male! E porta via tutte queste ciappusaglie, arriva al diventore. Oh! Dai, su, muoviti! Dove la metti la scala? Ma non è lì? Il riflettore è lì, lo vedi? Quindi metti la scala di vicina. No, non è il riflettereährt. Va, tutto da. Grazie a tutti.